Sì, grazie Marcello. Questa è una scuola, vedete qui, è un modellino e adesso vedremo insieme qual è lo scopo di tutte le norme, di tutte le disposizioni che sono state date per ridurre tanto quanto possibile la probabilità di contagio. Cominciamo con ricordare l'elemento fondamentale, perché dobbiamo indossare le mascherine e perché dobbiamo stare a distanza di sicurezza. Il motivo è semplice, lo ricordo ancora una volta, perché mentre io sto parlando, mentre ognuno di noi parla, emette fisiologicamente delle goccioline. Queste goccioline, nel caso in cui io fossi infetto o eventualmente qualcuno fosse infetto, contengono, guardate, i virus. Vedete? Ecco qui. Adesso mi sono sbarazzato dei virus che erano contenuti all'interno di questa gocciolina. Ma questo è una rappresentazione plastica di quello che accade quando un soggetto contagiato sta in mezzo alla gente. E allora qual è il provvedimento? Il primo tra tutti ovviamente è utilizzare la mascherina per impedire alla gocciolina di allontanarsi e in assenza della mascherina, e comunque è buona norma sempre, osservare la distanza di sicurezza, perché queste goccioline hanno una gettata limitata, tendono a cadere soprattutto a quelle più pesanti. E quindi il distanziamento sociale abbinato alle mascherine, l'abbiamo ripetuto tante volte, è il primo presidio sanitario. Vediamo in pratica che cosa significa questo nel caso di un edificio scolastico. Io ho preparato una specie di plastico molto semplice. Vi farò vedere attraverso uno schema. Questo qui, questa è una scacchiera. Perché uso una scacchiera? Perché sto cercando di fare una, per così dire, geometrizzazione degli spazi. Le aule sono tutte diverse tra di loro, hanno forme, dimensioni differenti. E allora come possiamo fare per sfruttare al meglio lo spazio disponibile? Vediamolo insieme. Da quest'altra parte della scacchiera ho messo cinque marche distintive. Queste sono le posizioni che verranno occupate dai ragazzi. Vediamolo in pratica. Qui ho preparato, vedete, dei modellini di bambini, vediamolo con questo, di bambini che stanno al banco. Li metto nelle posizioni che sono previste dalle normative per rispettare le distanze di sicurezza. E adesso lo vedremo insieme che effettivamente questa disposizione a scacchiera, questa disposizione alternata, ecco qui, è la migliore possibile. Vediamo un attimo se riesco a sollevarlo. Ecco, così vi posso far vedere meglio. Questa, ecco, andiamo con la camera aerea, forse è ancora più visibile. Questa è la disposizione. Guardate i bambini come sono. Sono in corrispondenza delle caselle nere sfalsati in maniera tale che stiano tutti quanti alla massima distanza possibile. Vediamolo in pratica quant'è questa distanza. Le normative ci dicono che deve essere un metro la distanza. La possiamo rappresentare attraverso questa cannuccia. Immaginiamo che questa cannuccia sia un metro e vediamo se effettivamente è così. Presta poco sì. Vedete? La bocca di un bambino sta un metro dalla nuca dell'altro bambino. Ed è questo è vero per tutti quanti i bambini in questa disposizione. Quindi questa è una disposizione, una distribuzione che soddisfa le richieste. Andiamo avanti. Prendiamo con la camera centrale e mettiamo anche l'insegnante adesso. Questa era la scuola vista dall'esterno. Adesso proviamo a inquadrare la scuola invece dall'interno. Eccola qui. Questa è la scuola. L'insegnante immaginiamo che sia questa e che abbia la sua scrivania, la sua cattedra. Metto la cattedra dell'insegnante e metto l'insegnante qui. Ora in questo caso l'insegnante ovviamente in posizione frontale rispetto ai bambini e quindi la distanza di sicurezza, la distanza di rispetto deve essere maggiore. Ed è stata fissata intorno al doppio, ai due metri. Se questo era un metro, ve lo faccio rivedere, questo era un metro di distanza di un bambino dall'altro. Possiamo farlo vedere così. Adesso raddoppio questa distanza aprendo la cannuccia che prima era piegata a metà. Eccola qui, la cannuccia. E ora vediamo che effettivamente la distanza è rispettata. La distanza dal bambino più vicino è di due metri. Esattamente il doppio della distanza a cui stanno i bambini. Ecco, diciamo che con la disponibilità di spazio che c'è all'interno di un'aula scolastica, di un edificio scolastico, questa è la disposizione ottimale. Il problema è che ovviamente i bambini non stanno soltanto all'interno delle aule scolastiche. C'è anche il problema della riflessione, della mensa. E allora vediamo. Ho preparato qui un altro modellino. Questa immaginiamo che sia la tavola della riflessione, la tavola della mensa. Come mettiamo i bambini in maniera tale, o i ragazzi in maniera tale, che stiano alla distanza di rispetto prevista. Non possiamo metterli naturalmente così. Ma come avrete visto già in alcuni dei locali pubblici, la distanza e la disposizione migliore si rispettano. Ecco, quando stanno da parte opposte del tavolo, uno tutto verso sinistra, l'altro tutto verso destra. Questo lo possiamo far vedere con il metro precedentemente. Vedete che anche in questo caso il metro di distanza è rispettato, che è la distanza minima prevista. Dopodiché ovviamente c'è anche la circolazione, perché i bambini devono poter affluire all'interno delle aule scolastiche e devono poter abbandonarle. Beh, anche in questo caso sarà una questione di organizzazione. Immaginiamo che i bambini si spostino per entrare in questa maniera all'interno dell'aula, da questa parte della scacchiera per poi entrare. La distanza che dovranno rispettare è sempre di un metro, il metro canonico, perché sono nella stessa posizione rispetto alla quale si troveranno quando saranno seduti ai banchi. Questo sarà quindi il modo di accedere all'aula. Ecco qua, i due bambini che stanno entrando in aula ovviamente in assenza dei compagni e stessa cosa dall'altra parte per defluire e allontanarsi dall'aula, ad esempio per andare a fare la ricreazione oppure per andare a casa finalmente. Quindi, riassumendo, questa è la disposizione migliore possibile che si riesce ad ottenere, dati gli spazi delle aule scolastiche e i famosi banchi per singola persona di cui stanno provvedendo tutte le scuole, sia inferiori che superiori d'Italia.